E quindi zombie, volevo chiederti, quindi quale sarà lo scopo di questo video? Quale video? Questo che sto registrando? Stiamo registrando? E beh! Attenzione! Ovviamente la persona che stiamo prendendo in giro è un nostro amico. Sappiamo di non essere pro, ma era la sua prima partita su Fortnite. Quindi non potevamo non prenderlo in giro. A proposito, dopo aver lasciato un bel mi piace, scrivici nei commenti se secondo te sei più forte tu o noi. E perché? Zombie, e non arrivare dove arrivano tutti, perché ora tutti atterreranno qua. Quindi... Eh, tutti stanno andando là, non per dire. Infatti, quindi tu non hai la minima speranza. No, 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 oddio, ho trovato un posto, dai, ci sono. Bravo. E poi passerà tutta la partita a guardarci, io l'ho perdita. No, voi voi venire vicino a voi ovviamente, cioè, cercando di non morire. Ho trovato già una pozione di grobe. No, c'è un tipo, no, ma che cazzo è? Si è appena caduto. Io ne ho ucciso uno. Non te l'avevo detto. Ne ho ucciso uno. No, 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 sono vivo. Sto cattonando, raga, se mi aiutate. Stai cattonando? Cattonando. Mi sto avvicinando a voi. Si stanno avvicinando... Ah, hai ucciso quello che avevo già. Da che parte? Io sto gattonando, se venite da me, sono dietro. Dietro! Luca, Luca! Otti, Luca, sono qua vicino, 70 di vita. Luca è uscito da quel posto. Luca, vieni qua! Arrivo, arrivo, arrivo. Otti, ok, dietro, vai, vai. Ma c'è qualcuno. Fermo. Luca. Tu curalo. Ci mettiamo qua, ci mettiamo qua. Tu curalo. È iniziata bene, abbiamo fatto 4 kg in totale, figa. Ma perché Octi ha un cespuglio attorno? Scusate. Cazzo dici? No, ma che? Non è vero. Puoi trovarlo. Non è vero. Zombie, ti sei curato? Sì. Mi dai le benne ora? Ah, Octi, mi sa che gli ha fatto il bug. Quello che vedi cespuglia intorno alle persone, sì. Octi non ha un cazzo. Davvero? Sì. Assurdo. Com'è che faccio a passarti la roba, scusa? Buttala per terra. Aspetta, non dirmi che vedi anche i cesi su sto passaggio qui. Sì, vedete? Non ci credo. Octi, ha il bug quello di Spettefelle. Allora, per il cazzo. Che bastardi, questo. Fai, l'immiglio si apre. L'immiglio si apre così. Luca. Devi. Fiascia, ha trovato, ne vieni qua. Eh, me le darai da un'altra parte, riprendile e me le darai dopo. Ma cazzo, ma ora che... Ma no. Luca, noi ridiamo e scherziamo, ma siamo lontanissimi. No! Dammi le ore. Corriamo, corriamo, zombie. Fa i materiali, tu. Faccio io, faccio io. Io, come si fa i materiali? Devi mettere il trucco. Andiamo. Smettere di diri strontate. Vai, vai, vai. Velocissimo, zombie, che se no ci moriamo qui. Ma perché quando mi dice che se la salute è più 75, non posso usare le bende? Perché è una limitazione. E con le bende non puoi curarti. Poi solo col medikit. E come si cura un medikit? Col medikit. Oppure ti carichi di scudo, che è una seconda vita alla fine. Poi c'è la pomata leggendaria, ma è difficile da trovare. Lo slurp. La Nissan. La Nissan in Cascai? Cosa? No, com'è che si chiama? La Pasta Fissan? Ma tu gli hai raccontato a zombie della famosissima granata che fa ballare i nemici. Ah, sì. C'è una granata che fa ballare i nemici. Tu la lanci e il nemico balla. Dai, l'ho già provata. Ah, cazzo. L'hai sgamato. Che stupido che sia. Per una volta che dicevamo qualcosa di vero che ci aspettavamo, non ci credessi. E niente, cosa facciamo? Proseguiamo, andiamo verso salti. Salti in padella, quattro salti. Che farei legno? Perché così costruiamo un super castello. Perché Minecraft è... Eh sì. Perché zombie è bravo su Minecraft. Perché Minecraft è bravo su zombie. Io... E voi fate legno che io ho ferro. Ferro? Che cazzo è Minecraft? Sì, è serio? Eh, sì che è Minecraft. Si chiama Forte. Forte sta per Fortino. E Knight sta per Cavaliere della Morte. Prima di chiamarlo Anger. Anger Games, nice. Nice. Anger in verde. Cazzo, l'ho quasi chillato. Octi, vieni qua dietro o no? Ma ho chillato io? Incredibile. Dopo che gli ho sparato tre volte. Oh, ce n'è uno sopra, ragazzi, aiutatemi. No, non farti sparare. Eh, mi ha sparato, mi sta vicino da voi. Luca, devi ucciderlo. Costruisci, Luca, costruisci. Arriva, arriva, arriva. Eh, raga, però sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Arriva, arriva. L'ho ucciso, bitch. Ok, Luca, devi riabilitarci. Prima me, chiaramente. I mortacci, cazzo. Sto qua c'è un'arma, ma se un'arma è viola. Ma fammi... Anzi, aspetta. Muoviti, dai. Ma cazzo, no, sono chiuso. No, dai, io ci credo ancora. No, io ho 36 di vita e non vedo neanche il... del cerchio. Vabbè, vi renderò orgogliosi di me. Ma non è possibile. Io ho le bende, Opti, io ho le bende. Ma sei un coglione. Alt, fermo. Se hai visto il video fino a questo momento, scrivi nei commenti siete dei comuni mortali. Lo so che non ha senso, ma mi piace troppo farvi scrivere queste frasi. Vai, buttiamoci verso le linee. Ma magari mi avvisate, no, eh? Eh, infatti l'ho detto. Vai, buttiamoci. Troppo tardi, tipo. Ma cosa? Perché Luca l'ha capito perfettamente? Sto alle pompe, ci dai. Una trappola danneggiante, raga. Oh, cavolo. Mi ha raccato a caso. Ma dov'è il tipo? Non lo so. È qua. Dove, dove, dove? C'è l'assalto, raga, ora vi raggiungo. No, sono in due con due pompa. Zombie, dai. Se vinci questa, giuro che ti pago 10 euro di grafiche senza voler le grafiche. Mi dimmi dove sono, li vedete o no? Sono dietro, dietro. Li vediamo. Come è dietro? Dietro, dietro. No, adesso. Alla tua sinistra. Lì davanti. Qua, là, 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 là. Quella è la casa. Zombie, cosa stai facendo? Voglio vedere dove sono. È una tattica infallibile. Tu devi andare contro un muro e sfregarci la fronte. Dove sono, raga? Per vedere dove sono. Comunque, cioè, è una direzione giusta per evitare la tempesta? Sei il giallo. Eh, direzzo, dritto. Spara, spara. Spara, spara. Stanno saltando, che cazzo ne so? Non vedo niente. Eh, immagina, di scuro non stanno fermi a farsi sparare. Io mi immagino zombie con gli occhi stravicini allo schermo che però non vedo un cazzo. Dai, 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 dai. Buono, buono, l'hai preso. Credo. L'ho preso, però si è fatto lo scudo. Io ricaricherei. Eh, non ricarica? Oh, no. Oh, no, è bugato. Cosa fare? Ok, ricarica. Aspetta, ma tu vedi la casa davanti a te? È un bug. Ma basta. No, è davvero lì, è davvero lì, è davvero lì, zombie. Sì, però, aspetta, che ho messo le impostazioni di me. C'è un bel. Lui si mette alzato in piedi sul tetto. Mi sento, mi sento, mi sento. Se ne vedo volare. Vagli più vicino, vagli più vicino. Eccolo, è lì, è sempre lì. Ce l'ho andato. È dritto davanti a te. Noi vogliamo sparare. E ora copriti. Ora copriti, copriti. Mettiti su un aglioncino. Ricarica. Un'altra munizione, che cazzo ricarica? Tanto lo prendono da dietro, zombie. Sicuro. Te lo ficca in culo. Bene, me ne vado, va a fanculo. Ok, dare le spalle al nemico è il miglior modo per scappare. Cosa? Dare le spalle al nemico è il miglior modo. Adesso senti... Adesso senti... Una strana pittigoria al culetto. No, ma che ce l'ho avuto di The Gioco. Non sei taccato perché mi sono messo le casse su Discord. Aspetta. Ecco, in mezzo a una prateria, in piedi. Luca, stiamo registrando cose da non fare su Fortnite. Esatto. 80 cose da non fare su Fortnite. Ecco i tipici errori da navi su Fortnite. Che stai facendo? Ma io sono in safe zone? No, scusate. Apri la mappa. Ma la mappa come faccio? C'è tipo una linea. Quella linea della contazione dove... No, sei fuori, sei fuori. Com'è che faccio ad entrarci? Vai verso la linea. Quale linea? Perso la... Ustis! O che se tu spari? Ah no, c'è chi non sei mi automatico. Vai via, vai via. Vai, corri, corri. Ii, è scarso bene però, eh. Sì, fate. Cioè, sei in piedi che corri in una linea dritta? Non so, sta giocando. No, regalo, la cazzo dovevo andare. Mi sto spregando, mi sto... Nemici! Eh, non devo sparare, ma. Ma che cosa fanno? Ma la staggia per un cazzo. Ma la staggia per un cazzo. Perché ridi? Che devo far? Si stanno giocando. Ma la staggia per un cazzo. Io, io, io. Oh, scusate, sì, guarda. Le sfide di impossibilità, te la... Mamma mia. Mi ha fatto un cazzo, d'occhio. Poteva... Poteva saltare. Damianne. Ah, allora sei nella... Sono due tipi. Oh, ci sarebbe vincere a sinistra. Non, non sparare! Minchia! È stato brevissimo! Oh, è decimo! Oh! Non, non sparare!